Oddio! C'è qualcuno con la torretta! Oh mio Dio! Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Fortnite. Oggi andremo a fare una partita veramente tanto, tanto interessante. Abbiamo fatto una partita bellissima con tante uccisioni e abbiamo trovato anche uno che stava utilizzando la torretta e le abbiamo fatto un headshot pazzesco. Le abbiamo fatte esplodere la testa così imparavo ad usare la torretta. Spero che il video vi piaccia, raggiungiamo i 3000 mi piace per una prossima Bat Royale, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e adesso godetevi questa fantastica partita. Stiamo atterrando in questa nuova fantastica partita di Fortnite e qui sembrerebbe che ci sia tanto tanto loot, quindi vediamo un po' di lootare. Siamo proprio qua dal deserto e infatti questo posto diciamo che è buono perché negli ultimi tempi ci sto atterrando sempre e trovo sempre tantissimo loot. E infatti guarda qua c'è tantissimo loot, ci sono tipo due ceste che possono spawnare e c'è tutto il tempo di lootare perché tanto qui non ci atterrà mai nessuno. Guarda qua che figata, abbiamo trovato anche un succo succoso, perfetto, eppure un cecchino viola. Quindi in questa partita se ce la facciamo cercheremo di fare il cecchino, se ce la facciamo. Adesso se tipo andiamo verso Palmetto Paradisiaco potremmo anche trovare qualcuno in città da poter cecchinare perché lì sapete ci sarà un mucchio di gente che sta tipo fightando. E quindi c'è tanta gente che potremmo uccidere. Allora finiamo qua di lootare tutto, prendiamo anche la revolver e adesso andiamo subito verso Palmetto Paradisiaco. Anzi prendiamo questa cesta e poi ci andiamo. Uh, là c'è qualcuno, là c'è qualcuno sulla torretta, lo vedete? No, ho beccato la torretta, no peccato, non mi ha neanche sentito credo, non mi ha neanche sentito. Ok, è difficile, è troppo, è troppo, no devo sparare più in alto. Cacchio, spariamo più in alto, spariamo più in alto. Nooo, uffa, aveva piazzato la torretta. Cosa fa questo piccolino? Ma è un piccolino, cosa fa quello? Cosa fa? Pum, piccato, ma non in testa, ma perché sto sparando così tanto in basso? A quanto pare siamo lontanissimi da quel posto. Infatti non riesco a capire, non riesco a capire cosa devo fare per cercarti di ammazzarne uno. Dai, spariamo questo piccolino, è un piccolino, non sa che cosa fare. E ciao, cosa... Ok, perfetto, ho beccato, finalmente l'abbiamo ucciso, TSM banana. TSM banana, TSM banana. Allora, secondo me mi hanno visto e infatti mi stanno già tipo sparando. Prendiamoci questo M16 e vediamo lì se possiamo tipo ammazzare qualcuno. Allora lì c'era tipo una persona che ha pushato su un altro. Wow, 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 sentite, sentite, sta utilizzando la torretta. Dobbiamo cercare di pushare per cercare di ammazzarlo con una torretta. Eccolo, vedete, vedete, è lì, è lì, è lì, boom. No, peccato, qui sotto c'è qualcun altro. Qui sotto c'è qualcun altro. Non ce l'ho fatta, è troppo difficile. Ok, mamma mia. Ok, no, ucciso. Uh, mamma mia. Allora, cerchiamo qua di sparare a quest'altro, perché vorrei tanto cecchinarlo. Ma dobbiamo trovare un modo per cecchinarlo, perché mi ci vuole un po' più tempo per tipo mirarlo e poi sparargli. Eccolo, eccolo, boom. No! Ma quanto è difficile beccarlo. Eh, vabbè, se l'aspetta, è molto intelligente. Se l'aspetta la grande quello lì di essere cecchinato. Quindi, sapete che faccio? Scappo via. Mi sa che scappo via. Però vorrei prendere gli scudini se ce la faccio. Ma non riesco neanche a trovarli. Cosa è sceso? Mi sa che è sceso. Mi viene a prendere. Probabilmente mi viene a prendere. Quindi, che facciamo? Non lo so. Oh, no, no. Ancora lì. È ancora lì. Cacchio. È fissato. Con quella torretta. Ok. Oh, sì! Shizua! Sì! Ucciso! Finalmente! Ci è voluto un bel po' di tempo, ma l'abbiamo cecchinato. Fantastico! E adesso stiamo attenti che ci potrebbe essere qualcun altro qui nei dintorni. Avete visto? Ci è voluto un bel po' di pazienza, ma alla fine l'abbiamo cecchinato. Andiamo a prendere subito il suo loot e stiamo attenti. Vedete, vedete? Usare la torretta tipo nelle battle royale è molto difficile perché ci sarà sempre qualcuno che ti cecchina. Puoi stare sveglio quanto ti pare. Puoi stare tipo con la guardia alta per tanto tempo quanto ti pare. Ma c'è sempre qualcuno che ti cecchina. Che cacchio, non voglio salire lì sopra. Voglio solo prendermi qua queste cose qui e cercarmi di bermi un altro scudino. Perfetto. Così se c'è qualcun altro qui posso tipo ucciderlo. Non so se c'è qualcun altro qui nei dintorni. Potrebbe esserci, però facciamo una cosa. Adesso non perdiamo tempo, cominciamo a lottare. Per fortuna che qua oggi sono, in questa partita sono spawnate le fessure spazio-temporali. Quindi posso rimanere qui a palmetto per tanto tempo. Che tanto quando arriva la tempesta posso usare tipo lì le cose, le fessure spazio-temporali. E andarmene via subito a gambe levate. Oh no 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 no, ci dobbiamo spostare, ci dobbiamo spostare velocemente. Veloce, veloce, veloce. Volevo trovare tipo uno scudone, ma non ce l'ho fatta. Che peccato, che peccato. Aspettate però, qui c'è tipo uno scudone che possiamo tipo prendere. So che c'è qua tipo uno scudone forse. C'è un tesoro qui che dovremmo prendere, però perderò un bel po' di tempo. Ma facciamo che prendiamo il tesoro. Sì, eccolo è qui. Prendiamoci il tesoro, prendiamoci il tesoro. Tanto la prima tempesta non dovrebbe neanche fare così tanto danno. Ecco, vedete, vedete, ha funzionato. Ho sperato, ho sperato che ci fosse e ha funzionato. Adesso ce ne andiamo via subito e stiamo attenti. Per fortuna che abbiamo preso anche le bandage. Quindi possiamo anche rimanere un bel po' qui. Che tanto se ci curiamo col medikit abbiamo comunque le bandage più avanti. Perfetto, qua c'era comunque tanto altro loot secondo me. Solo che non abbiamo avuto il tempo di prenderlo perché dobbiamo scappare subito a gambe levate. Veloce, veloce. Andiamo via. Cerchiamo di andarcene via con questa bella fessura spazio-temporale. Veloce. E stiamo attenti che qua ci potrebbe essere qualcuno che è entrato in ritardo dalla tempesta. Proprio come me. Uh, la stanno combattendo. Guarda, guarda. Oddio, qua c'è un altro. Oddio, qua c'è un altro. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Oh mio Dio, c'è troppa gente. C'è troppa gente. Mamma mia. Allora facciamo una cosa. Stiamo attenti che qua c'è uno con il cecchino pesante. Non possiamo farci beccare. Perfetto. Ok. Vediamo se riusciamo a trovarlo. E' qui. E' qui che spara. E' qua che spara. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda. E' veloce. E' veloce. Mamma mia. E' bravo, è bravo. E' bravo. Sapete che faccio? Cerco di scappare via da questo. Perché questo qua potrebbe anche uccidermi. Stiamo attenti. Sì. Mi sa che scappo via. Cosa fa adesso? Ha fatto tipo una fortezza. Ha fatto una fortezza e mi sta cercando. No, 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 no. Scappiamo via. Quello lì è forte. Quello è sicuramente forte. Ha pure uno scar. Quindi sicuramente mi distrugge. Eh, ma mi sa che devo stare qui. Perché non posso muovermi da nessuna parte. Vorrei tanto cecchinarlo se ce la facessi. Ma non so se ce la faccio. Ah, la prossima tempesta si sta muovendo. Muoviamoci. Muoviamoci con essa. Perché... Eccolo, eccolo, eccolo. Finalmente l'ho visto. Perfetto. Si è spostato anche lui a quanto pare. Ok. Aspettiamo di trovare il momento giusto per sparargli. Perché questo qua c'ha tipo uno scar. E non so proprio come sparargli. Cioè, se li sparo, poi lui tipo mi spara indietro con lo scar e poi mi distrugge. Perché sembra essere abbastanza forte. Aspettiamo di vederlo. Perché non capisco dove si trova. Forse è sull'azienda. Non capisco. Mi sa che è scappato. Forse è scappato in avanti nella foresta. Credo. O forse lo ritroviamo qui di fronte. Uh, uno scar. Eh, scusate. Un M16 blu. Eh, sento qualcuno che spara là in fondo. Forse è lui. Vabbè, noi che cerchiamo di entrare nel prossimo bordo. E stiamo attenti. Stiamo attenti. Siamo rimasti in set. Devo cercare di fare qualche bella cecchinata se ce la faccio. Sì? Sentite, sentite. Sento un po' di persone qui davanti. Uh, guarda, guarda. Sono da quella parte, sono. Perfetto. Cerchiamo qui di camperarcela. Perché qui dobbiamo stare in questa posizione e stare attenti. Vorrei cecchinare uno di quelli che stanno fightando. Ma non so se ce la farò. Anche perché sono spaventato che ci sia qualcuno alle mie spalle. Tipo da quella torre. Ma non credo che ci sia qualcuno lì. Quindi possiamo sparare a quelli. Vabbè, aspettiamo che fightino. Anche perché qualcuno di loro c'ha anche un lanciarazzi. E si trova là sopra. Ora, se riuscissi a vederlo potrei anche sparare e cecchinarlo. E ucciderlo subito. Guardate, guardate, guardate. È lui, è lui. Vedete, vedete, vedete. Boom, ucciso. Eros live. Eros live. Perfetto. E lì sotto c'è un altro. Ciao, si è nascosto questo. Uh, gli è scivolato lo scar. Gli è scivolato lo scar leggendario. Secondo voi lo andrà a prendere? Mmm, questo qua non penso che lo vada a prendere. Oh, e invece l'ha preso. È andato a prenderlo. Aspettiamo, aspettiamo. Non cerchiamo di ingaggiarlo. Che questo qua appena ha fatto una build battle e mi sembra essere tanto tanto forte. Siamo rimasti in tre. In tre siamo rimasti. Wow. Perfetto. Se siamo rimasti in tre allora dobbiamo cercare di ingaggiarlo. Appena lui ingaggia qualcun altro. Spero che non mi abbia visto. Allora, io posso andare a prendere quello scar silenziato se tipo lo lascia lì. Oh, che cacchio. Però dobbiamo individuare la terza persona che secondo me si trova su quella collina, sapete? È tipo su quella collina che sta tipo camperando probabilmente. Uh, guarda qui comunque quanto loot che c'è. C'è un mucchio di loot. Guarda, guarda quello. Guarda quello. Mamma mia. Ok, prendiamoci qua tutto. Prendiamoci tutto e cerchiamo di pusharlo se ce la facciamo questo. Dobbiamo cerchinarlo. Se ci riusciamo. Eh, ma è difficile. È molto difficile perché sembra essere molto molto forte. Uffa, lo scudo. Non abbiamo più lo scudo, cacchio. Non abbiamo più metà dello scudo. Quest'altra dov'è? Non capisco dove sia. Guardate, guardate. Eccolo. Mamma mia. È forte. È forte questo. Cacchio. Vorrei cecchinarlo ma è difficile. Faccio tutto il giro se ce la faccio. Provo a fregarlo un pochino. Se ci riesco. Ma è difficile. Perché secondo me sa che sono qui. Sa che sono qui. Tipo. Sa che sono tipo qui. Guarda, guarda. Cacchio. Non sappiamo dov'è la terza persona. È per questo che sono un po' preoccupato. Che cacchio. Dov'è la terza persona? È là sopra. Non è là sopra. L'ha individuato forse. Se l'ha individuato posso tipo ingaggiare su questo. Questo qua mi sembra un pochino forte. Sapete? Uh. Guardate. È andato da quella parte. Uh. È andato via. Oh. Fantastico. Non pensavo fosse andato via. Ma chi cacchio? C'è qualcuno qui. No. Oddio. C'è qualcuno con la torretta. Oh mio Dio. L'ha distrutto con la torretta. È stato lui che distruggia con la torretta? Non so neanche se è stato lui che distruggia con la torretta. Vediamo dove si trova. Vediamo dov'è. Dov'è la torretta? C'è qualcuno lì con la torretta. Facciamo tutto questo giro. Per cercare di entrare dentro al bordo. Oh. Eccolo. Guarda, guarda. È lui, lui. Vedete? No, non è lui. L'ha ucciso. What? Sta scendendo. Dove sta andando? Dove cacchio sta andando quello? Ha usato la torretta e poi è scappato via. Perché? Eccolo. Ha preso il lutte. È sceso a prendersi il lutte. Ucciso. No, non l'abbiamo ucciso. Mamma mia, che peccato. Che peccato. Peccato. Che peccato. Ok. Attenzione. Quello si usa la torretta. Sono morto. No. Eccolo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, cacchio. Eccolo. Sì. Ucciso. Non ci credo. Ce l'ho fatta. Vittoria reale. Wow. Non so come. Sono sopravvissuto. Comunque l'ho ucciso. Questo qua cercava di utilizzare la K. Ma non sapeva che lo scara è più forte della K. Infatti sperava di fare degli edge. Questo qua aveva ucciso quello forte con la torretta. E io sono riuscito ad ucciderlo. Wow. È stata una partita veramente fantastica. Spero che il video vi sia piaciuto. Raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo fantastico video. Iscrivetevi al canale premendo il tasto su iscriviti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.